informazioni in cambio di una morte in te ah eeeh lei sono ferita nooooooo ma che cazzo è ce ne sono altro lo sto restando lo sto restando entra 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 lo sto restando oh mio dio ma quanto è scarsa questo ragazzo non l'ho visto però lo posso immaginare lo so è ispirato onesto cioè aspetta mando questa clip dai lo devo